I verdi europei si mettono al lavoro. Sabato a Leone il congresso del partito ha nominato la tedesca Reinfek e l'olandese Eichaut a capo della lista per le elezioni europee di giugno. I verdi sono convinti che il rafforzamento del Green Deal europeo rimanga l'unica risposta alle sfide internazionali ed europee. I verdi ritengono inoltre che una transizione climatica più equa sia la migliore soluzione all'ondata di estrema destra prevista dai sondaggi. Grazie.